Nicola Ivaldo, ortopedico, direttore dell'Istituto Villa Igea di Acqui, esperto di problemi della spalla. Allora parliamo proprio da questo. Che novità ci sono nella chirurgia della spalla? Negli ultimi anni ci stiamo occupando soprattutto di consolidare l'esistente. Nella medicina si cerca sempre la novità e qualche novità anche in questo campo c'è, però per mio interesse particolare c'è appunto la volontà di capire bene quello che abbiamo fatto negli ultimi anni. Poi qualche novità anche dal lato tecnologico c'è, soprattutto per quanto riguarda la chirurgia mini-invasiva endoscopica, soprattutto per quanto riguarda la biologia per la guarigione tessutale, però siamo in un campo ancora da valutare con molta attenzione quanto a efficacia, che è qualcosa di fondamentale da capire. Altre relative novità interessanti riguardano la patologia dell'anziano, quindi la chirurgia che consente ripresa funzionale, in particolare la chirurgia protesica. L'articolazione della spalla è una delle più complesse, delle più delicate? Visto che io la tratto non dovrei dire così, però ha tante parti, tante componenti, tanti aspetti biologici, tanti aspetti meccanici, in più ha delle componenti, la patologia della spalla ha anche delle componenti, lo dico chiaramente, psicologiche, nello sviluppo di alcune malattie, nella complessità che i problemi possono poi determinare, anche sotto questo profilo, parlo di problematiche lavorative o sportive, per cui dobbiamo essere abbastanza attrezzati ad affrontarle a 360 gradi. Una chirurgia, una persona che si fa operare alla spalla, ha una riabilitazione difficile, lunga, o anche nel campo della riabilitazione sono stati fatti dei passi avanti? I tempi riabilitativi sono piuttosto lunghi, tranne per alcune patologie in particolare, ho parlato prima della chirurgia protesica, esiste un sistema protesico che è la protesi inversa, già piuttosto nota e utilizzata, che velocizza anche i tempi di guarigione. Per il resto degli interventi, siccome lavoriamo su strutture vive, vitali, e non le sostituiamo, ma le ripariamo, i tempi sono quelli biologici, quindi un paziente che operiamo deve fare sempre conto tre mesi prima di riprendere l'attività lavorativa e per certe attività sportive, purtroppo per lui, anche cinque o sei mesi. Però diciamo si ritorna come prima? Quello ci vuole un chirurgo che sta al piano di sopra, più bravo di noi. Senta, dottor Rivado, lei ha anche la caratteristica, abbastanza inusuale di essere anche direttore di una struttura sanitaria. Ecco, parliamo proprio di questo, interventi chirurgici molto delicati, molto avanzati, quindi molto costosi, strutture sanitarie che devono sopportare dei costi non indifferenti. Come si fa a conciliare le due cose? O si è filantropi, questo sarebbe una gran cosa, però anche la sanità viaggia con le stesse regole dell'altro business, diciamo, stilizzando un termine un po' forte. In effetti la chirurgia della spalla è estremamente penalizzata, se pensiamo che un'artroscopia di spalla, un intervento che ha un impegno di mezzi, di tempi, di capacità, di know-how e tutto quanto, viene rimborsato in regime di day surgery 1.500 euro giù di lì. Quindi, detto proprio come forse qua a Genova si capirebbe bene, una miseria. Allora succede che fortunatamente quello che si chiama case mix non esistono soltanto in una struttura interventi di spalla, ma ci sono interventi, diciamo così, un po' più remunerativi. La spalla è utilizzata un po' come intanto un servizio e in più è una chirurgia che genera attrazione di pazienti, per cui alla fine, insomma, si prova a compensare, ma è comunque molto molto difficile e sarebbe veramente da proporre, già stato tentato, una rivisitazione dei rimborsi, dei dicoli che si chiamano DRG, perché la spalla per qualche ragione è cascata proprio alla fine della lista quanto a entità di rimborsi. Secondo lei, un'ultima domanda, come può reggere la sanità in una situazione di crisi, in una situazione dove essendoci una popolazione anziana in continuo aumento, è logico che le prestazioni sanitarie raddoppiano, triplicano? Io credo che un sistema sanitario che si compensi non esiste al mondo, per cui si tratta soltanto di limitare i danni. Vedendo quello che potrà succedere in Italia, prendo a presto le parole che ha detto Umberto Veronesi che ha pronosticato che nel prossimo futuro bisognerà, non dico mettere le mani un po' al portafoglio, ma ridiscutere un pochino di più, questo succede già, ridiscutere un po' più il rapporto con le assicurazioni e succederà probabilmente potrebbe succedere che persone che hanno una fascia di reddito piuttosto alta, in qualche modo dovranno integrare il contributo pubblico con qualcosa di privato.